Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri listini continentali, che accusano a perdite consistenti Tra le migliori blue chip di Piazza Affari, buona performance per ERA, che cresce dell'1,48%. Le peggiori performance si registrano su Saipem, che ottiene meno 4,39% In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a più 140 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,34% Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Italia annunciati prezzi alla produzione su base annuale, pari a 22,6%. Su base mensile, lo stesso dato si attesta su 0,8%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa della fiducia consumatori dell'Università del Michigan Attesa una partenza contrastata per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove al ribasso, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 13992,5 punti